La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News andiamo subito a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani vediamo quali sono i principali temi in trattazione questa mattina andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale in primo piano il tema sullo smart working le novità su cui si sta lavorando dal governo proprio per quanto riguarda anche il lavoro da casa vediamo quali sono subito in primo piano il titolo smart working c'è la stretta per gli statali si cambia alternanza tra lavoro in presenza e lavoro in remote stop agli straordinari a chi resta a casa pensioni addio a quota 100 allo studio soluzioni equilibrate mentre dall'Ocse arriva la richiesta di fermare i prepensionamenti andiamo avanti le nuove regole dell'Unione Europea la differenza tra debito buono e cattivo e poi in campagna e restiamo in alto sindaci da Napoli alla sua Salerno De Luca in campo tranquillo su Napoli più incerto su Salerno comunque sia De Luca se De Luca scende in campagna elettorale per le comunali e poi ancora in alto l'inedito Mimirrea e le storie di Cozze e Operai a centro pagina la giornata della Salernitana ma soprattutto la giornata del grande campione del Bayern Monaco Frank Ribéry alla Salernitana Ribéry il re Granata così titola il mattino l'asso francese alla Salernitana sono qui per far felice i tifosi queste le prime parole del campione l'entusiasmo in città selfie, autografie e palleggi ed è subito colpo di fulmine poi l'intervista Frank cercava una molla e l'ha trovata a Salerno cambiamo argomento centro pagina varianti spunta la super delta via la terza dose così sta mutando il virus lo studio del TGEM richiami da settembre le categorie a rischio e poi l'anticipazione pandemia degenerazione di una parola le parole possono avere vite ineffabili pandemia per esempio che storia ha la parola stessa e il significato che riveste andiamo in basso incastrato da telecamere intercettazione gratta e vincita baccaio arrestato voleva la tangente sulla vincita mentre ci spostiamo in alto nei box la mostra del cinema la strage del cerceo quando la violenza ha il tratto borghese e poi la morte dell'attore addio a Belmondoli resistibile sbruffone che amava l'Italia questi titoli per la prima pagina del mattino nazionale vediamo ora invece quali sono i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno in primo piano l'arrivo naturalmente di Ribéry alla Salernitana una gioia per i tifosi ieri la presentazione tra selfie ed anche le prime parole del campione ex Bayern Monaco vediamo Ribéry e Salerno prima tappa a Vietri poi selfie autografi e show allo stadio lo immagino pieno sarà speciale provo delle belle sensazioni il campione in fiamma ai 10.000 a corsi alla Reghi sono qui per la gente non per i soldi e poi il commento come Diego è un desiderio di salvezza e di bellezza l'analisi da regista d'attacco può fare ancora la differenza in A e poi l'intervista a Cesare Prandelli un leader Frank gioca ovunque in Granata è scattata una molla la società e il debutto di Marchetti scelta giusta Fabiani con il francese mercato chiuso per le notizie invece di SPA le infrastrutture la roadmap per l'aeroporto investimento da 250 milioni e poi verso le comunali andiamo a Sarno Sarno a Pasta scusate andiamo a Pasta a Sarno l'esordio in piazza pari dignità per tutti i quartieri queste le prime parole del candidato sindaco andiamo in basso la pandemia prof allievi e genitori vaccini davanti alle scuole in strade camper dell'asl ritorno in aula in sicurezza la nuova campagna promossa dall'asl di Salerno con dei camper che potranno sostare davanti alle scuole che ne faranno richiesta per consentire agli alunni over 12 ai genitori docenti ed anche personale di potersi vaccinare qualora ancora non l'abbia fatto andiamo nelle fotonotizie restiamo in basso l'allarme il guglielmo scomparso il giallo della toyota e poi le indagini figlio del boss gambizzato il racconto non convince questa è la prima pagina del mattino di Salerno i titoli invece sul quotidiano del sud in apertura si parla di scuole in vista proprio dell'avvio del nuovo anno scolastico vediamo se ci sono novità intanto la speranza che il prossimo anno consente ai ragazzi di restare in classe quindi di seguire le lezioni in presenza per tutto l'anno vediamo intanto però come ci si sta muovendo per far sì che ciò possa essere possibile vediamo scuole e tutto come prima questo invece le parole del quotidiano del sud la regione invita i presidi ad allestire centri vaccinali negli istituti a otto giorni da rientro mutati problemi di spazi e trasporti la sconsolata analisi di Claudio Nadeo dell'associazione dei capi d'istituto andiamo avanti al centro pagina nella foto notizia l'arrivo di Ribery alla Salernitana Ribery Salernitano giamo questa città insieme ci salveremo ci salveremo l'obiettivo mi stimola l'abbraccio di 5.000 tifosi alla Rechi per la politica dei masi critico troppe divisioni politica ardua mentre ancora Conte comunità aperta puntando tutto sulla risorsa mare andiamo di spalla c'era inferiore sigilli all'industria che sversava nel fiume sarno e poi i dati istat giornate di lavoro la provincia ormai sprofonda e crisi nera cava dei tireni murolo attacca schema di bilancio da predissesto andiamo in basso i personaggi Zizanovic una salernitana al Quirinale questi i principali argomenti per il quotidiano del sud vediamo invece quali sono le principali notizie per le cronache andiamo sulla prima pagina vediamo la politica la presentazione di Sarno al suo ai cittadini la vediamo Sarno infiamma la piazza io l'alternativa Salerno la città delle fontanelle fa acqua da tutte le parti il vichingo e tifosi Granata presenti all'apertura della campagna elettorale il candidato sindaco fa il pieno e attacca andiamo avanti a centro pagina si parla dell'arrivo della presentazione di Ribery alla Salernitana Ribery accende Salerno finalmente festa qui non per soldi voglio la salvezza parla perfino Marchetti Fabiani il mercato finisce qui squadra il tecnico alla Rechi Ranieri fischiato chiede scusa e poi ancora sempre a centro pagina le associazioni di categoria commissione di super esperti per gestire i fondi europei incontro con i candidati sindaci Barone andiamo in basso l'intervista a Roscigno di parte dal terzo settore dallo sviluppo economico e poi Cava dei Tirreni l'assessore Lamberti rilancia alla grande la festa patronale ancora l'intervista parla Picarone abbiamo tirato fuori Salerno dal degrado e dall'abbandono cambiamo argomento lasciamo la politica le indagini da Pagani l'ordine di ferire il figlio di Petrosino D'Auria questi principali titoli per il quotidiano le cronache vediamo invece la città che apre con la grande festa riservata al campione l'ex campione del Bayern Monaco Frank Ribery ieri in presentazione allo stadio Arechi raccogliendo anche l'abbraccio dei tifosi la speranza l'importante speranza per la salernitana di avere un campione che consentirà la salvezza e quindi la permanenza in A della squadra vediamo Ribery mette Salerno al centro del mondo l'arrivo del fuoriclasse francese la firma del contratto con il club Granata le foto con il golfo e la sciarpa virali sui media perché qui non per soldi ma per passione queste le prime parole del campione l'abbraccio dei tifosi e la gioia di Marchetti il nostro brand per il rilancio poi vediamo qui una delle prime immagini del campione con la maglia Granata andiamo avanti andiamo a Montesano ci spostiamo di fondo con la notizia di cronaca del crollo di un solaio in una struttura che ha purtroppo provocato il grave ferimento di due operai uno veramente in maniera grave tanto da essere stato necessario il ricorso dell'eliambulanza per il trasporto al Ruggi d'Aragona vediamo il titolo crolla il solaio della canonica feriti due operai incidente a Montesano e poi ancora andiamo a scafati la sentenza processo My Love pusher condannati ci spostiamo invece di spalla l'emergenza vaccini a scuola arrivano i camper per gli studenti l'iniziativa dell'ASL di Salerno e poi la sanità medici in corsia ok a 52 assunzioni negli ospedali ancora l'indagine gasolio sporco maxi sequestro dei doganieri in basso la politica verso le elezioni il governatore detta la linea continuità e grandi opere Sarno qui una Gardaland il governatore De Luca approfitta dell'incontro sull'aeroporto Costa da Amalfi per dettare i temi della campagna elettorale in città per la riconferma del sindaco uscente Vincenzo Napoli in ballo investimenti per 1,5 miliardi Michele Sarno candidato del centrodestra invece propone la realizzazione a Salerno di un parco giochi tipo Gardaland e poi Eboli 33 volta faccia tra gli alleati di Cariello questi i principali titoli quindi i principali argomenti per i quotidiani ne dicono a questa mattina abbiamo appena quindi visto insomma le nostre prime pagine ora però torniamo sul mattino andiamo sulle pagine di primo piano le pagine delle notizie nazionali si parla del Green Pass in primo piano tra le notizie infatti vediamo quali sono le novità proprio per il tema del Green Pass vediamo lotta la pandemia in azienda Green Pass e vaccini un decreto per l'obbligo asse imprese sindacati tavolo tra le parti sociali il nodo di chi sosterrà le spese dei tamponi per i Novax Bonomi l'esecutivo se ne faccia carico niente a gravi di costi per gli imprenditori Landini prima della riunione a colloquio da solo con Draghi l'ho invitato a una iniziativa della CGL e poi in basso regali e ferie ai dipendenti così le aziende americane ringraziano chi si vaccina ma ci sono anche imprese che avvertono chi insiste per il no dovrà pagare di più la polizza sanitaria queste invece le novità dagli esteri per quanto riguarda anche la ripresa andiamo avanti sempre per quanto riguarda la lotta al covid e per quanto riguarda anche il tema vaccini perché arriva l'annuncio da parte del ministro della salute Roberto Speranza di puntare ora sulla terza dose di vaccino e quindi annuncia anche di voler iniziare subito con le somministrazioni vediamo il G20 a Roma terza dose Speranza in Italia si parte subito il ministro presenta le conclusioni del vertice vaccini anche ai paesi poveri entro settembre inizioni a chi ha più a rischio per over 80 sanitari l'EMA avvia lo studio le immunizzazioni hanno evitato le restrizioni ma non dobbiamo fermarci in arrivo l'estensione del PAS e poi andiamo in basso nel governo però c'è attenzione la sanità teme il rinvio primo scontro sulla fiducia Speranza vuole il decreto legge in settimana braccio di ferro con Salvini sulla norma di luglio che introduce il QR code non blindarla e poi vediamo qui per chi è obbligatorio il Green Pass principali obblighi già in vigore per il personale sanitario scolastico studenti e docenti universitari clienti di ristoranti all'interno chi si allena in palestro in piscina viaggiatori di lungo raggio chi va a fiere e congressi spettatori di teatro cinema e sport chi va negli ospedali chi va in sale gioco e scommessa invece potrebbe arrivare a breve l'obbligo per i dipendenti pubblici gestori e commesse dei ristoranti e bar operatori nelle palestre e piscine addetti ai trasporti di lungo raggio in generale tutti quelli che lavorano in settori dove il certificato è obbligatorio per clienti e frequentatori e chiudiamo anche questa pagina e poi insomma andiamo sulla pagina sportiva per la presentazione del campione ex Bayern Monaco a Salerno ieri tra l'abbraccio dei tifosi e la gioia soprattutto dei tifosi nel vedere il grande campione vestire la maglia granata lo vediamo qui in queste immagini proprio con addosso la maglia della salernitana per Riberilla Marsigliese dei 10.000 questo il titolo del mattino delle pagine sportive del mattino la passione granata presentazione in grande stile alla Rechi per il francese sono a casa faremo di tutto per salvare la salernitana serie di palleggi a centrocampo e palle in tribuno ho capito che qui c'è un ambiente speciale la scelta della maglia granata potevo avere più soldi in altre squadre ma sono un passionale e poi la malattia e cambiamo argomento lasciamo il tema Ribery il mondo in ansia per Pelè operato per un tumore e con questa pagina ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle pagine dei quotidiani dedicate alle notizie della provincia di Salerno e andiamo proprio sul mattino di Salerno in primo piano lo sport con la Salernitana ma soprattutto con l'arrivo di Ribery alla Salernitana la presentazione ieri alla Rechi un ampio reportage del mattino di Salerno dedicato alla giornata di Ribery in Granata vediamo il titolo per le prime pagine che poi insomma seguite poi da pagine dedicate proprio alle immagini ma anche alle interviste rilasciate ieri da Ribery così come da altri importanti nomi presenti alla festa Ribery Passione Salerno non sono qui per i soldi ma per fare felici i tifosi queste le prime parole nell'intervista di Frank Ribery primo contatto con il mare di Vietri poi la presentazione show alla Rechi mi sembra di giocare qui da tre anni immagino lo stadio pieno sarà speciale queste le parole del campione i supporter mi hanno scritto ho sentito subito belle sensazioni queste cose lasciano il segno e ancora spero di essere come Ibrahimovic la Salernitana unita e forte come una famiglia aiuterò i giovani e poi andiamo avanti cambiamo argomento ma vi ricordo che sul mattino veramente c'è un'ampia sono tante le pagine dedicate alla presentazione del campione a Salerno e poi cambiamo argomento però ora occupiamoci invece della campagna di immunizzazione a Salerno la nuova iniziativa dell'ASL di Salerno con i camper pronti ad assostare davanti agli istituti che ne faranno richiesta per poter proseguire nella campagna di immunizzazione quindi per ampliare ancora di più il numero dei vaccinati vediamo la pandemia e l'assistenza vaccini dinanzi alle scuole per alunni prof e genitori tutti in aule in sicurezza oggi camper al Santa Caterina di Salerno e nei licei scientifici di Nocera e Pagani ancora in calo e positivi e di ricovero un'altra vittima è un cinquantenne di Nocera le tre unità mobili si sposteranno poi alle altre sedi che lo chiederanno possibili anche hub dentro gli istituti si accede ai centri di somministrazione senza prenotazione ma i minorenni devono essere accompagnati dai genitori a centro pagina il focus eboli marito e moglie infetti a spasso e al funerale denunciati preoccupa l'aumento dei contagi cluster dopo una festa in pizzeria e poi in basso e cambiamo argomento l'allarme Guglielmo scomparso il giallo della Toyota arancione a chi l'ha visto il caso del 24enne che si è allontanato da casa venerdì senza documenti soldi né cellulare chiudiamo questa pagina restiamo sempre sul mattino di Salerno e andiamo ora sulla pagina delle notizie del Cilento della Piana del Sele e del Vallo di Diano in apertura andiamo a Battipaglia in pianti sportivi KO si riparte dal Sant'Anna restyling da 8 mila euro il campo più antico della città vi giocherà la Battipagliese ma molte altre strutture attendono manutenzione e nuova vita questo l'argomento principale su questa pagina andiamo poi a Ponte Cagnano Faiano fogne nuove ma restano gli allagamenti si infiamma la polemica dopo gli allagamenti in via Alfani causati dal nubifragio abbattutosi su Ponte Cagnano Faiano sabato sera l'incidente sul lavoro a Montesano sulla Marcellana crolla il solaio del cantiere feriti due operai di cui uno grave è stato trasportato in eleambulanza al Ruggi d'Aragona in basso Castelcivita Dalila e Cossi il matrimonio in piazza festa di fratellanza tra Africa ed Italia e poi a Eboli ladri all'antica fornace bloccati con la refurtiva di spalla invece 17enne tenta il suicidio in ospedale in fin di vita le sue condizioni sono gravi ma è miracolosamente viva la ragazza di 17 anni che nella notte tra domenica e ieri si è lanciata dal quarto piano dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania andiamo ancora in basso ad Ascea Ponte Alento ad alto rischio Castiello passi all'ANAS questa l'interrogazione del senatore Castiello chiudiamo le pagine del mattino di Salerno vediamo invece le principali notizie per le cronache partendo dalla campagna vaccinale che subirà un'accelerazione soprattutto in vista dell'apertura dell'inizio dell'anno scolastico quindi dell'apertura delle scuole arriva l'annuncio dell'aslo di Salerno con la nuova iniziativa del camper itinerante che sarà presente davanti alle scuole che ne presenteranno richiesta per consentire la vaccinazione agli over 12 e quindi ai ragazzi che frequentano le scuole con più di 12 anni ai loro genitori ma anche al personale e ai docenti che al momento risultano ancora non vaccinati vediamo camper dell'aslo per vaccinare gli studenti davanti alle scuole si parte oggi da nocere pagani anche senza prenotazione potranno vaccinarsi i genitori docenti e personale scolastico i dirigenti scolastici di Salerno sono pronti ad accogliere gli allievi queste le parole del sindaco di Salerno e poi De Luca se vogliamo che le scuole restino aperte per tutto l'anno dobbiamo far vaccinare il maggior numero possibile di ragazzi questa è la richiesta del governatore della campagna andiamo in basso la dirigente open day oggi al liceo scientifico Gallotta di Eboli per tutti gli studenti over 12 Mupo sono felice di accogliere l'iniziativa promossa dall'aslo vaccini a scuola per tutti oggi a partire dalle ore 9 fino alle ore 18 il liceo scientifico di Eboli ospita un open day vaccinali anti-covid l'accesso è libero e non è prevista prenotazione potranno vaccinarsi tutti alunni over 12 di ogni scuola genitori docenti e personale scolastico e chiudiamo questa pagina restiamo sempre sulle cronache andiamo veniamo ora nel Vallo di Diano sulle pagine della provincia sud di Salerno partendo dalla questione rifiuti con la la prossima l'ipotesi della costituzione del subambito distrettuale ecodiano i tempi si stringono ne hanno parlato in conferenza dei sindaci venerdì scorso i sindaci del Vallo di Diano vediamo sindaci riuniti per la costituzione del SAD ecodiano il presidente Francesco Cavallone ha voluto precisare come vi sia assoluta necessità di una completa e totale partecipazione da parte di tutti gli enti laddove non vi sia la condivisione dell'iniziativa la gestione dei rifiuti passerebbe all'EDA ossia l'ente d'ambito quindi passerebbe a Salerno sul tavolo temi come l'espletamento delle gare per l'affidamento del servizio l'adesione dei comuni i dipendenti ma anche soprattutto la tariffazione e andiamo avanti Montesano la cronaca l'incidente sul lavoro ferito grave a Salerno si tratta di un uomo di 52 anni di Sassano grave incidente sul lavoro a Montesano Scalo in un cantiere lungo la SS19 delle Calabria intorno alle ore 10 nella frazione Scalo del comune termale si è avvertito un forte boato che ha preoccupato la comunità in breve si è preso l'origine del forte rumore proveniva da un edificio su cui si stavano effettuando interventi di riqualificazione e recupero ferite due persone ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni di nazionalità rumena residente a Sassano sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di sala consigna dei carabinieri e dei sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nel crollo e poi a Vallo della Lucania una 17enne precipita dal quarto piano dell'ospedale era ricoverata nel reparto di medicina per specifici accertamenti e chiudiamo anche il quotidiano le cronache andiamo avanti andiamo ora sul quotidiano del sud partendo dalla scuola vediamo la regione ora vuole hub vaccinali a scuola questo il titolo somministrazioni negli istituti allertati alcuni dirigenti scolastici salernitani a otto giorni da rientro in aula restano i vecchi nodi risolti spazi e trasporti in addeo benvengano le inoculazioni se servono a dare sicurezza quota di vaccinati nella categoria 12-19 anni campania già sopra la media quindi grande partecipazione da parte dei giovani alla campagna vaccinale andiamo avanti sempre sulle pagine del quotidiano del sud e i dati istat per quanto riguarda la situazione del lavoro in particolare nel salernitano lavoro salerno sprofonda questo è il titolo e tra le province tra le cinque province con le peggiori percentuali di giornate retribuite all'anno dal dati del 2019 deprimente la condizione dei salariati alla base di spopolamento e fuga dei cervelli ambiente il territorio ha un primato positivo la media più bassa di concentrazione di polveri sottili e poi torniamo a parlare di covid andiamo a eboli positiva spasso per la città donna di 62 anni fa shopping insieme al nipotino di due nel salernitano si registrano ancora 29 casi 11 decessi in tutta la campagna questi gli ultimi dati e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento con il nostro tg alle ore 13 e 45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.